Buongiorno a tutti dal Milanista Park siamo qui a registrare questo nuovo episodio della scena simulata quindi ora non ho tempo da perdere quindi mi passo subito alle partite simulare in questo episodio. Un nuovo episodio della scena simulata andiamo subito alla prossima partita che è Parma-Atalanta. Parma-Atalanta oggi avremo l'Inter-Juventus in Inter-Juventus di Roma. Parma-Atalanta finisce 2-1 vediamo Fiorentina Bologna. la Fiorentina fuori Bologna vince 2 0 Fiorentina Bologna vince Bologna Bologna che sta facendo bene, Caglia di Sampdoria, il Caglia di passi metà anche 1 0 Finisce 1 0 pure Caglia di Sampdoria la Sampdoria sta adottando l'edizione buono per Milana, anche Juventus finisce solo con la Juventus attenzione, per finisce una 0 intima la Dursa, per diritto Napoli che sta perdendo per torno 1 0, potrebbe essere utile per Milana nel conflitto di Napoli 1 0 è una sessuale ex, passi metà anche in ex, un nuovo sessualo per il pareggio, finisce solo, 2 1 è una sessuale, la spalla rinace dopo che Milana rinace, resta tenendo gli occhi Milana, 2 1 spalla e vince la spalla, no pareggio, attenzione, 2 a 2, 3 2 spalla va a vincere la spalla, la scelta 2, Milana, passi metà anche a Verona, 2 0, 2 per Milana, direttamente a Milana, questo è un Milan show, finito tempo, tra 1, 3 2, attenzione, 4 2, va a vincere, 5 2, il Milana va a vincere, 5 2, fuori casa Verona, grande Milana, il Milana che può assalire? 6. 6. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 16. 13. 14. 15. 13. 0-0. Vediamo com'è la classifica là in alto. L'eclipulismo ha un punto in più da Juventus. Vediamo la prossima giornata avremo Palma-Bologna. 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 Passi metri di Palma per 1-0. Palma. E finisce un tempo di Palma. Cala di Roma e qua abbiamo il derby di Milano. Derby di Milano. Ok? Un'altra cosa è bravo. Darmila, 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 Darmila è scritto Darmila dopo questa... che è dei uomo 1 finissimo 1, 2... Il Deppi di Milano che ha benissimo, che è anche ancora, che ha le persone se niente. Darmila, passiamo nel battaglio! Il Deppi di Milano, un'eccello! Darmila! Darmila, 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 Darmila vince il Deppi! Il Milano vince il Deppi! Darmila, Darmila! Grandissima Milano, questo episodio sta salendo, la sta salendo che ha scritto il Milano in questo episodio. No, Sampdoria, promisci 4 in grado, Sampdoria, Conti Napoli, c'è solo Atlantico e Reggiero. Un'eccello! 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 la Juventus potrebbe perdere la posizione e perde la posizione la Juventus per il mio spazio per il Torino, 2-1-2, vincito il Torino che va lì a 31 per i punti per il Juventus, se ne approfitta e 2-0 d'Ax. Taglio da R'Arche, conizia la R'Arche, vincito, per explorer poi��iatri, presento, per il buonessia, per un grado di Fiorentina, che va a vincere, andiamo a 2 gradi, Fiorentina, va a 31 punti, insieme a Juventus e Torino, vediamo, prima di chiudere il video, la caccia per il Milan, l'alaccio ultimo, il Milan è fuori dalla zona Salveccia, però in questo episodio, un punto di vantaggio dal Napoli e dall'Udinese, dall'Atalanta, scusate dall'alaccio, quindi il video finisce qui, vi invito a mettere un like, condividere, commentare lo stesso video che vi è piaciuto, e secondo te, cosa ne pensate di queste sorprese, e secondo te, Mori di Mila e Lucia vince a uscire dalla Salveccia, che non è in sera, in questa serie, e mi invito comunque puramente a iscrivervi alle mie persone Facebook, Instagram, il Ministro Pazio, iscrivetevi al mio canale YouTube, che è importantissimo, supportatemi, come iscrivetevi pure al canale YouTube, soprattutto al canale YouTube, siamo a 95 iscritti, per ora, a 5 iscrizioni dal centro, il mio obiettivo profissiato, sin dall'inizio, il video finisce qui, in questo momento forse l'Italia, e io resto a casa, e ci vediamo in un prossimo episodio della serie simulata, che dovrebbe uscire il giovedì 16 aprile. Un saluto a tutti, e ci vediamo alla prossima.